Accadiamo con gioia alla Santa Trinità, che la luna, la Chiesa, incorce l'unità. Le atti del Cangelo, fuoco di carità. In quel tempo, disse Gesù a Nicodemo, Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.